Ecco la traduzione in italiano. Coppa Italia Trials. Crescenzi e Nardinocchi si confermano in Coppa Italia Trials. Crescenzi e Nardinocchi convincono. Coppa Italia Trials. Crescenzi e Nardinocchi convincono. I Coppa Italia Trials hanno nuovamente prodotto competizioni emozionanti dove gli atleti Crescenzi e Nardinocchi si sono messi in mostra in modo impressionante. In una gara caratterizzata da un'alta intensità, entrambi gli sportivi hanno mostrato prestazioni straordinarie che li posizionano come seri contendenti per i prossimi campionati nazionali. Crescenzi ha ottenuto un punteggio eccezionale che lo ha catapultato verso l'alto nella classifica generale. Besonders erwähnenswert sei seine Technik gewesen, die in der Fachwelt für beeindruckte Reaktionen gesorgte. Experten hoben hervor, dass seine Präzision und Schnelligkeit während des Wettkampfs entscheidend zu seinem Erfolg beigetragen haben. Er habe gezeigt, dass er sich kontinuierlich verbessert und das Training der letzten Monate Früchte trägt. Dies wurde von seinem Trainer unterstrichen, der stolz auf die Entwicklung seines Schützlings anspielte. Nardinocchi, d'altra parte, si è distinto per una routine notevole. Le sue performance nella scorsa stagione gli avevano dato un vantaggio decisivo, poiché era riuscito a gestire la pressione che accompagna eventi di tale portata. Allenatori e collaboratori erano concordi nel ritenere che la sua forza mentale avesse contribuito altrettanto alla sua prestazione odierna. Inoltre, è stato vantaggioso per lui osservare accuratamente la concorrenza in anticipo e prepararsi di conseguenza. Die Zuschauer zeigten sich begeistert von den Darbietungen und belohnten die Athleten mit lautem Applaus. Die positive Atmosphäre unter den Anhängern spiegelte sich auch in den sozialen Medien wider, wo zahlreiche Kommentare die Leistungen von Kershensi und Nardinocchi lobten. Die Social-Media-Plattformen seien über die letzten Tage hinweg von zahlreichen Posts überflutet worden, die die beiden Athleten in den Mittelpunkt rücken. Abschließend lässt sich sagen, dass die Coppa Italia Trials eine wichtige Plattform für Athleten darstellen, um sich für zukünftige Wettkämpfe zu qualifizieren und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Gli spettatori sono rimasti entusiasti delle esibizioni e hanno premiato gli atleti con un forte applauso. L'atmosfera positiva tra i sostenitori si è riflessa anche sui social media, dove numerosi commenti hanno elogiato le performance di Crescensi e Nardinocchi. Le piattaforme di social media sono state inondate negli ultimi giorni da numerosi post che hanno messo in primo piano i due atleti. In conclusione, si può affermare che i Coppa Italia Trials rappresentano una piattaforma importante per gli atleti per qualificarsi per le future competizioni e dimostrare le loro capacità. Crescensi e Nardinocchi hanno chiarito di essere pronti a lottare per le posizioni di vertice anche in futuro. Le prossime settimane promettono sviluppi emozionanti, poiché gli atleti si preparano per le prossime sfide. L'attenzione che è stata riservata a questi due talenti potrebbe spingerli ulteriormente e aumentare le aspettative sulle loro performance. Le prossime competizioni della stagione saranno sicuramente al centro dell'attenzione, mentre i fan attendono con ansia di vedere come si evolveranno i due sportivi. Anita Fache, mercoledì 25 settembre 24. Grazie per la visione!